Neppure l'arte consola del male. Non c'è niente di più terribile di un cancro, ma ancora più odioso è un cancro che colpisce i bambini, l'osteosarcoma. Mandiamo 2 euro con un sms o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45581. Non siate capre, date 2 euro o più all'associazione italiana Studio Osteosarcoma per salvare i bambini. Grazie a tutti.